Lì si è che erano bei tempi. Allora. Ok, via. Da qui, va. C'ho il catarro. Scusate per questo rumore bruttissimo. Non lo sapevo, Abbio. Eh, certo mi ricordo quella clepto. E quando mi viene sacca da gold a 120 gold. Che è successo, Effi, che sia un po' a me? Le possioni mana? Perché se ne scorda? Ok, questo se lo ricorda, Steffi che ha preso. Ragazzi, come si chiama la passione di Mordekaiser? Vediamo se lo sapete. Vai, passione di Mordekaiser? Oh, pesce. Oh, pesce. Oh, pesce. Quando in giungla si cominciava una molte persone, e dopo, 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 e... Micchia, c'era un periodo che con Trinda la gente iniziava con 13 pozioni. Perché se lo dimentica? E chi se lo dimentica? Ma proprio che cabbo ne so. No. Ho fatto così perché magari se no non lo killava Mi dovrebbe aiuto a push'a qua perché lui ha tp In realtà no anche se tp Andiamo back Potremmo fare item della... no non posso andare back adesso Faremo item della Zhonya primo item ragazzi Eh Karim, a parte c'hanno pure di Revan quindi solitamente prenderemo anche magari Zhonya Però non è Karim Bukong Addirittura Tabby forse, però l'item della Zhonya non si fa di più perché ci dà più AP Quindi effettivamente facciamo item della Zhonya Poi magari facciamo Dabi, item della Zhonya, Tabby Riftmaker non so se vorrei farlo sinceramente Forse preferirei molto di più Vedete che a Rift forse preferirei molto di più L'ha provato sto game? Contro l'Uno Anivia Nooo però Allora a primo recall faccio Dabi sempre un semplice fatto ragazzi Se faccio item della Zhonya Mi avanzano 130 gold che non posso farci nulla Almeno così massimizzo i gold che ho Alla Chirigo Ieri sera sono riuscito primo... sono uscito Primo appuntamento con una, siamo andati in un ristorante Vista lag e tutto Abbiamo scelto ricostazioni e non l'ho mai fatta Alla fine mi sono fatto piogare 130 per questa ricostazione merda Si è stata bellissima poi non l'ho nemmeno fatto call E beh è provocata che è meglio così mate Tu immagina che tu esci con una ragazza e te la dà il primo giorno Non te scende un po' la reputazione che hai il rispetto verso quella ragazza A meno che tu non ti voglia solo scopo ovviamente Però in quel caso non capisco che tu spenda 160 euro Allora sei un coglione Dopo quello che ho visto ieri Ragazzi vi consiglio a tutti se siete interessati Adesso Giovi vi scriverà un termine Vi consiglio di andare a cercare istantaneamente su un qualsiasi sito di video non adatti ai minori Com'è che si chiamava Roman o qualcosa del genere Giovi? Sai già? No Fanto forse lo sai già? E' quello che ho pensato anch'io Però mi intendevo scopare ma non so nemmeno io che volevo non lo so Vabbè bro l'importante è che è andata bene Ci rivediamo la prossima volta e fai questa volta riporti Gli fa pure la bottina stavolta riporta a me che ho finito tutti i soldi Capito? E se le prendi l'insalata Sai già che non è quella giusta Esatto cercate per favore Cercate quel termine che ha scritto Giovanni sui siti Giovi di scrivelo tutto attaccato per favore Giovi di scrivelo tutto attaccato per favore Ragazzi cercate questo termine su un qualsiasi sito che finisca con hub Ok? Ragazzi io lo faccio per voi per farvi crescere Ok? Ragazzi non è nulla di poroso ve lo assicuro Non vi farei mai una cosa del genere Nulla di poroso e neanche di illegale Non vi preoccupate Bevi Bevo subito Ma appena fucio sta wave Perché mai dovrebbe essere una ragazza in questo caso? Boh diciamo che una ragazza che magari al primo appuntamento Poi dipende in qualche questione magari vi conoscete da 10 anni eh Però che al primo appuntamento magari te la da Non c'è nulla da scoprire dopo Cioè è come se finisse la magia delle, la corteggio, la Perché accelerare i tempi? Cioè poi è un mio, il mio concetto eh te lo ripeto Però Quindi mi scende il fatto che io l'ho fatto con me Chissavo quante arti ragazzi l'ha fatto perché era su cazzi sua eh Però Aspettiamo i soldi per la Steel Guard Il culo Vabbè Shadow la gente è veramente strana eh La gente è veramente strana Shadow Shadow Moon Eh Shadow Mettigli qualcosa in bocca Per non farla parlare Malore a lei Questo game abbiamo un counter piccato Io ne ho assolutamente cani da quel punto di vista Sono un romantico e non cerco quasi mai una botte via Sicuramente penso un periodo un po' Confuso Boh Ma i periodi confusi ce li abbiamo tutti eh Stai tranquilli No per l'altro mi chiedo se fossi uno da una botte via So creare a caso gli FPS da 140 a 80 così di botte Non lo so risale di boh Mi chiedo quanti soldi tu abbia speso Il buono Stefano ci ha detto sempre forte mi raccomando maestro Non so come comportarmi la seconda uscita Dici lo scotch? Ma si si mate Le vere donne si considerano Ocro point Appena si parla di figa guarda com'entra subito Il cap Allucinante oh Questo c'ha proprio il fiuto Questo è un cane da fighe Allucinante Io non ci sono soldi che spendo con le ragazze per offrire la cena al primo potente perché sono galante Lo faccio sempre Così te botto senza senso Che bocca c'ha questa? Ma che video stai vedendo scusa? Allora Allora chiedo per cortesia le persone in chat di andare a documentarsi su un sito vietate minori di 18 Cos'è la roman shower per favore ragazzi? Mi sta iniziando a far arrabbiare eh Eh l'ho fatto per salva cane Se no dav'è dato il buff E' ok No all'altro lato L'ho cercato Sono morto io invece di fare mori cane Se no avrebbe dato il double buff a wukong Mette una doccia Mate Sì ma guarda che tipo di doccia Quelli sono san pietrini Cazzificato la cortesia per fuori di andarmi a informare Mi state facendo incazzare come una bestia No non è quello Non è quello abio Non è quello che... Ma non è questo Roman e Re Chiaverie Ci sono belli grossi Lui è Executioner che in realtà Io mi cos'è se mi faccio protobelt e rante Affanculo Sì Ok Diciamo che col fatto che non ho Col fatto che non ho Ha tanta AP Non gli faccio molto danno Poglia Bello Buongiorno Signor giaclo Ci ripetiamo 10 minuti eh Ciao Norda Come faccio a perdere ogni giorno Mate Ricordati sempre che se da una parte godandi Dall'altra perdi Sì 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 La platea parco Va bene Esatto abbi Sembra abbastanza Una cosa Da fare con amore Molto bene A giovi piace vedere ste cose È un cazzo di Di depravato C'era un altro Ma Perché è gridato Ma che in che cazzo sta facendo Però Quasi up Non credo Non credo Gioi Eh ho troppo anche verale Questo Non è una cosa che volevo vedere a mezzogiorno Segnato il canale Ma io ho detto di fare una cosa Tu l'hai fatta Non puoi segnare il canale Perché ti ho fatto una cosa Di sua spontanea volontà Assolutamente Magneuron Grazie mille del Allo Sss Aio Voglio Che danno Ok Ho il tp Drago da 13 Arrivo subito Wait me Wait me Ho lato belt up Anivia è bella grossa Porca mi si piaccia Dovremmo Swappare ragazzi Che ce l'ho da tra poco Si tratta di questa Wave bless Perché Vabbè Ho capito Vaffanculo Il buff a morde Ti sente? Hanno buffato a morde? Che io non ho buffato a morde Mica mi ricordo No champion No champion Andrebbe uscire A mezzanotte Da W E' vero E' vero che prende più shield Cioè che prende più materia grigia Boh Sì sì Non è male Non è male Però Non c'ho troppo Effetto Cioè è forte Ma morde Non è Cioè i champion Che ci sono in top Sono forti contro morde Quindi di base Stare le 22 Ragazzi Io sono league partner No? E saprò meglio Queste cose Rispetto a voi Hanno detto che c'è stato un problema R22 Non uscirà più E uscirà a mezzanotte Eh Chi è league partner? Io vuoi Ho attivato l'opv Però va bene Avevo attivato l'opv Però va bene Primi In kind of league partner Ma sei anche trolloso Assolutamente no Nostez Avete la prova Io di cagazzate? Allora voglio per favore La prova in chat Sono una persona Che io di cagazzate Datemi una prova Datemi Non vi sto dicendo Una prova Ma guardate Vicini Quando ultavu Con bravissimi Tutti i tuoi vicini Dici che Brits E' scarso Ed è una cazzata Mi trovi una clip Dove dico Che Brits E' scarso? Ragazzi Brits l'ha fatto Lo faccio del cervello Comunque Oggi non è possibile Vabbè non è una cazzata Oggi non è possibile No non c'è del toxic Tra il mio brits A me lo credo Eh curato Perché tu non mi hai più iscritto Cane ma non è rimaster God dang Non ho mai detto Non ho mai detto Gnar vinka contro Camille E' che mentre eravamo in game In quel game Gnar mi batteva effettivamente Perché aveva preso Double Kill Bot In solo XP Che cazzo faccio Che cazzo faccio? Oddio Grazie di cisterci ragazzi Per favore E vedrei il flame Dove ti pare Non credo che ti però È un brutto fight per noi Quello Se manco troppo brutto Che cazzo faccio Che dire Follettine e follettine Vukong Titanichidra Kempank La gente non sta bene Titanichidra Kempank La zona potrebbe essere good Qua Cane Sai perché i squali in Cina Sono cattivi? Perché nuotano nel mare Cheуда Ecco Ecco Ak Kempank La zona potrebbe essere è suggested Persona potrebbe essere Quelle distress ė Su La zona potrebbe essere Leave Lau E Ma che fanno Zer a chiedermi, dovrebbe aiutarci qua Ma che fanno Ma che fanno Ma che fanno In realtà sarebbe buono Relay Però dobbiamo essere troppo forte Perché come si morde Sarebbe veramente buono In realtà Ho maxato W come seconda Dopo il tuo buff Però come fai? Non maxai? Vabbè caldo con loro Manca poco alla zonia Push questa wave Così almeno abbiamo la top Perché push C'ho la zonia Happy va bene questo periodo Sì mi sono iniziato a dedicare molto di più al poker L'investimento sta andando bene Sono contento Sono contento Poi tra poco vado in vacanza Ciao Marco E questo mese ragazzi A luglio Poker Non so quanto siamo esattamente sopra Dopo ve lo dico Stasera farò sessioni di poker pure Ma dopo ve lo dico Poi vi devo chiedere una cosa Se avete un foglio XL riempito C'è un modo per levare tutti i dati Con i quali è stato riempito E lasciare solo tipo lo sfondo? Capito in che senso? Un modo rapido per farlo? Eh no no sai Dopo ti spiego perché Dopo vi faccio vedere Perché intendo E poi mi supera Non so ci danno il zone Bel fight Vado già da meglio Allora ho anche un piano d'accumulo Sui fondi di investimento Però È gestito la mia banca Per il resto Investo in real estate Sia privato Che piccole e medie imprese Che E basta E sia In In proprio persone singole Che chiedono prestiti Magari per iphone O cose del genere Quindi proprio per singolo E poi E poi Etf Azioni Qualche volta Ho fatto un po' di forex Così per ridere E poi si basta E mo vediamo Aspettate Andrò su Dalla mia ragazza Bolzano E poi dal 15 al 22 Vado in Sardegna Vi faccio vedere Cosa intendo Vedete questo foglio qua Io vorrei Lasciare il tutto Così com'è Ma eliminare Solo questi Da lì dentro C'è un modo veloce Per farlo Comunque luglio 1400 euro Col poker C'è tre le zone in casella Selezioni e cancelli Eh ma se faccio così E cancello questi Non mi si cancella Anche tipo La tabella qua Ok allora Poi lo faccio Perché vorrei farlo Ne vorrei far Ogni mese diverso Lo vorrei fare Cioè ogni mese Ogni mese lo resetto Però qua faccio la leggenda Di luglio Due punti Tipo luglio Due punti E qua tutto luglio No Oh Che cazzo è stato Con tutti questi sotto C3L 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 Ma qua non funziona Un cazzo Chat Pirates Ancora no Ah ma Ah ma Perché Più che altro Tipo Ehm Questo è un calcolo Questo è un calcolo No Mi si è cliccato il calcolo C'è un calcolo C'è un calcolo